Vlad, grosse ambizioni da parte tua, cosa ne pensi? Che figura potrai fare in questo tipo di manifestazione? Beh dipende, intanto partiamo che il torneo è ben fatto, è pieno di grandi giocatori, la sfida è ad alti livelli, ora vediamo, spero di arrivare nei top, però prometto di darmi il meglio. Beh in questo tipo di iniziative poi la cosa principale è anche lo sfottò tra amici? Eppure, anche il divertimento, se... che altro? Va bene, in bocca al lupo!